Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Premetto subito, prima di iniziare questo video, se sentite un po' di confusione è perché abbiamo due stampanti in funzione, quella LCD a resina e quella FDM in plastica Ragazzi, mi scuso se lo sentirete un pochino a distanza, ma il nostro lavoro ci guadagniamo dei soldi e stanno accesi da mattina a sera a lavorare quindi ogni volta che registriamo un video sarà un po' il sottofondo Oggi vi voglio parlare degli ultimi nostri acquisti di Warhammer che vedete qui davanti il manuale base della nuova edizione, la scatola, una piccola scatola base delle Adeptas Ororitas delle sorelle guerriere e in più l'ultimo codex però si è chiaro una cosa, questo è il codex uscito per la versione precedente lo potete tranquillamente usare anche per il nuovo regolamento però se vedete anche il logo scritto sopra ai lati di Warhammer 40.000 non è lo stesso della nuova edizione ma non vi preoccupate, tutti quanti i manuali dell'edizione precedente li potete utilizzare tranquillamente anche nella nuova edizione di Warhammer ma ve ne parlo a breve dopo la sigla Tutta quanta questa roba l'abbiamo presa, acquistata dal nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola che ve lo ricordo ora, ma ve lo ricordo anche a fine video come vedete in soveimpressione e soprattutto primo link in descrizione quando acquistate da loro qualsiasi cosa che acquistate, qualsiasi cosa dal singolo colore a una scatola di Warhammer o qualsiasi altra usate sempre il codice sconto CORIDAN7 che lo vedete anche scritto tra l'altro sotto il primo link in descrizione per avere subito uno sconto del 7% e non pagate le spese postali quindi dateci un occhio immediatamente insomma perché risparmiate un po' di soldini parlando di Warhammer, ora qui c'ho davanti un po' di roba abbiamo preso, ve lo detto, abbiamo fatto l'acquisto di una scatola di base della Depthas Ordias perché da un po' di tempo ci è presa la voglia anche di provare Warhammer Kill Team e quindi l'abbiamo presa perché noi non giochiamo a Warhammer 40.000 non abbiamo lo spazio e nemmeno soldi per farci eserciti completi detto sinceramente era come ora, voglia di dipingere e tutto quanto quindi ci siamo buttati su un discorso un po' più piccolo e compatto come Warcry ci siamo buttati sul 40.000 su Kill Team e mia moglie è fanatica della Depthas Ordias e ha presa questa scatolina di base dove ci sono dentro 10 modelli e viene tipo 45 euro sempre dal negozio gioco libreria semola e poi ovviamente si è preso il codex soprattutto al 90% perché lo voleva di collezione per sapere la lore però anche quando andate a fare il vostro Kill Team almeno qua dentro avete tutte quante le caratteristiche non dovete andare a giro per siti e cose varie per quanto anche nel regolamento stesso di Kill Team ci sono scritte quindi comunque non è problema ma questa qui è roba a parte la cosa importante di cui vorrei parlare oggi è il regolamento della nuova edizione di Warhammer 40.000 gioco Wargame 3 eserciti che se vi ricordate già in un video precedente vi avevo fatto l'unboxing della scatola Indomitus perché noi abbiamo preso il regolamento a parte per un motivo molto semplice che aveva da dire poi nel corso del video ve lo faccio anche vedere qualche immagine ma soprattutto per il fatto che prendendolo con la scatola di Indomitus avete anche non solo il manuale ma una scatola a tiratura limitata da collezione che è già fuori produzione quindi se la trovate nei negozi prendetela perché va fuori produzione e non si trova più classico della GV un po' come Space Hulk Warhammer Quest e giochi del genere a meno che fra dieci anni non faranno una ristampa ma non penso perché tutt'al più faranno una nuova edizione e quindi se la trovate compratela in questa nuova edizione di Warhammer 40.000 la regola principale è di semplificare siamo tornati nel 2020 2020-2021 si sta tornando in un'epoca di semplificazione vi faccio l'esempio più classico D&D 5 edizione ha semplificato cioè l'Advanced l'Advanced di 20 anni fa ha il triplo delle regole di Warhammer 5 edizione perché si cerca di riportare tutto al semplice tiro di dado la scheda di una pagina di 4 edizione era arrivata tipo a 4 pagine di scheda oh ma cosa devo stampare Dio Bono un libro invece si torna alla semplificazione una pagina soltanto e regole veloci però comunque di impatto per quello che devi andare a fare e lo stesso fa Warhammer 40.000 con un regolamento molto semplificato per dirvi una regola del cavolo un tempo se voi avevate AB abilità balistica 3 vuol dire che colpivate al 4 o più vi ricordate c'era tutto un sistema di valore di tabelle qui no qui se ci avete scritto 3 vuol dire che colpite al 3 o più capito il valore che c'è scritto e il valore che dovete eguagliare o superare quindi comunque c'è stata una semplificazione disumana veramente delle regole e in questo manuale bello grande ciccioso e corposo che vedete qui è mostruoso ed è da collezione e ora infatti vi dico la cosa secondo me più bella di questa edizione qui che la gv ha sbancato stavolta per davvero nel regolamento ci sono 5 pagine di regole ragazzi in questo mostro in questo titano di libro 5 pagine di regole 5 tutto il resto sono ambientazioni missioni e la cosa più bella finalmente hanno inserito una modalità storia campagna barra storia da seguire c'è narrativa le case della follia il signore degli anelli per citarvi di board game una modalità storia per ogni capitolo dove magari con gli space marine farete un tipo di campagna con gli eldar un'altra con gli orchi un'altra seguite una vera e propria campagna persistente in mappa persistente a parte le mappe skirmish tipo appunto kill team mappa persistente dove se voi perdete la battaglia perdete una roccaforte dove se voi vincete conquistate quella cioè c'è veramente una mappa vera e propria da conquistare e mantenere e diventa una specie di veramente persistent world potete non fare le battaglie singole ma iniziare una vera e propria campagna per la conquista di tutto l'universo conosciuto appunto di warhammer 40.000 ed è uno spettacolo assurdo altra novità è l'ambientazione che fa uno step avanti e fra le tante cose a livello di ambientazione Belisarius Cole che è la figura un po' suprema una specie di primarca tra virgolette dell'adeptus meccanicus insieme a una strega degli eldar sono riuscite a riportare in vita il primarca degli ultramarine colui che ha fondato e scritto il codex Astartes è il primo genito uno dei primi geniti e il favorito dell'imperatore insieme a Horus che è Robot Gilliman che è il capostipite il primarca degli ultramarine è stato riportato in vita ed è iniziata una nuova crociata lui tramite i Belisarius Cole e le fabbriche di Marte pianeta appunto dell'adeptus meccanicus hanno portato questo gene potenziato e hanno creato gli adeptus Astartes primaris che sono gli ultramarines scusate non gli ultramarines gli space marine primaris quindi una versione potenziata e più forte ma proprio a livello di regole sono più forti degli space marine normali per quanto a livello di punti costano leggermente di più e sono intercambiabili potete ancora usare anche quelli vecchi e praticamente la storia vede i Necron questa volta cattivi ci sono sempre tutti ma non sono gli orchi che vanno a conquistare i settori dell'impero non sono i tiranidi che fanno magari la guerra con le bioflotte e la conquista la divorazione dei pianeti dei sistemi solari ma sono appunto i Necron che si risvegliano dalle loro tombe e vogliono riportare in auge il loro impero che è andato completamente distrutto si vogliono riprendere quello che hanno perso ci sono tipo 80 pagine di lore ragazzi vi spiega tutto logorroico tutte le fazioni tutta l'ambientazione vi spiega anche la storia del tradimento di Horus e il combattimento dell'imperatore col figlio Horus vi spiega tutto e è un manuale da collezione che io ho comprato non per giocare a Warhammer l'ho comprato a parte che vi da anche delle regole per fare delle piccole schermaglie in stile Kill Team quindi non dovete fare eserciti a migliaia di punti ma anche con una scatala o due sto regolamento vi fa giocare hanno capito che Warhammer non può i giochi della GV non possano essere solo per ricchi perché ragazzi ai tempi se non ci spendevi ai tempi delle lire 400 500 mila lire che io ce le ho spesi e va sicuro per la Guardia Imperiale non giocavi hanno capito che devono abbassare un po' il target perché se vuoi far giocare anche il ragazzino di 15-16 anni non ce l'ha tutti quei soldi e quindi hanno abbassato un pochino il tiro e a parte di queste cose c'è tutta quanta la lore tutta se volete sapere com'è l'ambientazione di Warhammer ma anche per scrivere un romanzo scrivere un racconto scrivere una novella oppure perché no avventarci una campagna in un gioco di ruolo compratelo perché è roba da collezione e vi spiega tutto io le regole ho letto veloce ma perché non me ne frega niente mi sono letto tutta la lore perché mi piaceva vedere cosa mi mancava insomma andare a colmare qualche buco ed è uno spettacolo assurdo un pezzo da collezione ragazzi il regolamento o l'edizione che vedete qui davanti è a tiratura limitata andrà a fare riproduzione il regolamento di Warhammer 40.000 si trova ovvio ma non sarà quella che vedete qui quindi occhio che come Indomitus è a tiratura limitata vi ricordo se lo volete acquistare con tutta quanta questa roba direttamente dal sito gioco libreria semola che trovate insomma in personale in descrizione nostro negozio sponsor quando li contattate quando fate un acquisto codice discount Coridan 7 per avere subito uno sconto del 7% e magari se iscrivete al supporto e li fate presente che arrivate dal mio canale tanto mandate una mail non vi costa niente arrivo dal canale di Coridan magari c'era questo prodotto vi farà avere anche i prodotti che non ha in lista quindi se siete a cercare un gioco della GV e non ce l'ha nel catalogo scrivete al supporto che Corrado il proprietario è una persona squisita vi risponde subito e magari ve lo farà avere ve lo ordina direttamente lui dal negozio della GV e ve lo sconta quindi iscrivete al supporto arrivo dal canale di Coridan mi raccomando io ringrazio ovviamente il mio negozio sponsor gioco libreria semola e Corrado e niente ragazzi andateci a dare un occhio e la nuova edizione di Warhammer è uno spettacolo e vi assicuro per quanto non sono un giocatore di Warhammer 40.000 proprio di Warhammer eserciti schermaglie sì la GV non poteva fare meglio di così qui davvero hanno toccato secondo me l'apice e più di V non possono andare numero 1 poi vabbè le miniature poi ve le farò vedere perché le ho acquistate lasciate perdere paurose ciao ragazzi alla prossima